Delizioso! E poi biscotti con le vitamine, i frullini per bambini e i frullini senza zucchero in vari gusti. Insomma, basta con i soliti biscotti! Sì, ti voglio sono un piacere per tutti i sensi e sono garantiti da un'azienda che ha fatto della qualità il suo punto di forza. Ecco perché va alla ruba! Ti voglio! Provate anche voi un piacere mai provare. Ma è lui l'orso! Sì, lui è Pris, la simpatica mascotte di Prisco, il calcifico che fa della cura dei nostri piedi la sua missione perché sa che se stanno bene i nostri piedi, stiamo bene anche noi. Per questo produce solo calze di altissima qualità. Guarda, è una qualità che puoi toccare con mano per sentire la morbidezza del puro cotone, le finissime cuciture per non irritare la pelle delicata dei piedi, la leggerezza degli elastici che non devono ostacolare la circolazione e poi le calze Prisco sono colorate con materiali atossici ed analergici. Insomma, il meglio per i piedi dei nostri bambini dai 2 ai 14 anni. Aspetta, quanti disegni e fantasie di colori, Gerry! Guarda, sono davvero tantissimi, sono oltre 150 modelli. Beh, praticamente per ogni gusto! E anche per ogni indigenza. Guarda, queste sono ad esempio le coloratissime antiscivolo, vedi? Alla linea Teenagers con colori sempre alla moda, sai quanto sono esigenti i nostri ragazzi, eh? Come se lo so! E qua c'è di che soddisfarli. Guarda, per esempio, la collezione bimbo Lonnie Tunes, coloratissime calze antiscivolo coordinate alla collezione intimo e pigiami, con tutti i personaggi preferiti dei cartoon, come Duffy Duck, Willy Coyote, Silvestro, Bugs Bunny e tanti altri. Gerry, tu vuoi proprio tentarmi, eh? E tu lasciati tentare, Frisco vuol dire alta qualità, che dura nel tempo, non solo per i bambini, ma per tutti, uomo, donna, anche per chi fa sport. Calze Frisco, per tutti, da zero mesi alla pensione.